Sarà convocato subito dopo il Consiglio Comunale del prossimo 8 luglio, dove si discuterà dell'approvazione del bilancio 2018, il Consiglio monotematico dedicato alla discussione dell'ospedale civile di Agropoli. Una buona notizia che vede di comune accordo sia la maggioranza che l'opposizione a dialogare insieme sul da farsi per la riattivazione definitiva del pronto soccorso. I cittadini di Agropoli attendono da troppo tempo la riapertura del nosocomio e si spera che questo possa essere il passo definitivo verso la riattivazione della rete dell'emergenza. Alla seduta consigliare saranno presenti, oltre all'amministrazione comunale di Agropoli, i sindaci del comprensorio cilentano nonché esponenti politici regionali e nazionali. Per quanto riguarda l'ospedale, nella conferenza dei capigruppi ho trovato la disponibilità del Presidente del Consiglio comunale, dei capigruppi presenti e anche del sindaco per una risoluzione totale della questione. Li ho trovati disponibili, abbiamo colloquiato molto. Sul fatto della presenza di una mozione che potesse essere condivisa da tutti abbiamo sorvolato perché in fondo ho fatto capire che non è necessario ciò che noi mettiamo come mozione in discussione all'ordine del giorno ma è necessario il comportamento unitario ed inequivocabile dell'intera politica di Agropoli, quella interna agli scanni e anche quella esterna agli scanni nonché della gente, del popolo di Agropoli per parlare dell'ospedale. Abbiamo parlato quindi anche di invitare in modo abbastanza deciso e categorico tutti i rappresentanti del Consiglio regionale, maggioranza e minoranza e poi chi vorrà venire verrà e tutti i sindaci del territorio. Abbiamo concordato quindi per bene su tutto questo ed abbiamo deciso mi sembrava a me perlomeno serio, sincero e spontaneo abbiamo deciso di tenere un comportamento unitario sul fatto che Agropoli ha necessità di un ospedale, almeno di un pronto soccorso attivo con tutte le prime funzioni necessarie per poter salvare praticamente quando è più vita umana è possibile, atteso il fatto che Agropoli è capitale di un comprensorio molto ma molto vasto sia nel periodo estivo sia nel periodo invernale. Molto probabilmente il Consiglio Comunale monotematico si terrà dopo il giorno 8, cioè dopo la data dell'approvazione del rendiconto 2018 fino al giorno 15, cioè la disponibilità va da giorno 8 a giorno 15. Noi siamo qui in attesa quindi di aspettare praticamente questa convocazione definitiva.